Buongiorno, grazie per aver accettato la nostra richiesta. Noi le abbiamo portato. Queste sono le istanze del nostro cittadino. Legga e aspettiamo la risposta. Detto fatto, ieri abbiamo dato voce alla segnalazione di un cittadino che non era riuscito a trovare una risposta da via acqua in merito all'allacciamento alle fognature. Enrico, dopo aver provato inutilmente a ottenere una risposta, ci ha contattato ed eccoci qui. Abbiamo incontrato il dottor Piazza, tecnico della rete fognaria, che ci risponde. Diciamo che per l'allacciamento della fognatura tutti i fabbricati che risiedono in una fascia di rispetto fino a 50 metri c'è l'obbligo di allacciamento della fognatura. Poi per quelli che si trovano superiori ai 50 metri vedo che parla anche dell'impegno economico. Diciamo che per ogni caso via acqua valuta logicamente anche l'aspetto economico. Quindi è difficile adesso dire fino a quanto viene coperta, viene giustificata l'importo in euro. Per caso, per caso viene analizzato e noi siamo disponibili sempre con l'utente a guardare i casi per caso. Il nostro telespettatore dunque è invitato a fissare un appuntamento per calcolare insieme al dottor Piazza la quota di contribuzione prevista nel suo caso per l'allacciamento fognario. Qui ci abbiamo messo la faccia, noi lo ringraziamo, grazie per la sua disponibilità.